Ma hai sentito, eh? Ma già andava a ciò qui? Eh, già. Ma che la faccio? Ma che la faccio? Ma la metto? Ma non entra a me? Ma che da me? Ma la dì? Sì, mi sembra di più. Ma la madre, sì, sì. No, sì, sì. No, no, no. 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 Mi chiedi che cosa sei, vorrei non risponderti, per come sorridi sai, vorrei non conoscerti, no. Oh no, raccontami un po' di noi, di come sarebbe se, vorrei fossi libera, ma non te lo dico mai. Ma io non posso, perché senza di te sono un teso, perché dopo di te, tipo di te, io non ne ho. Sono vivo, sono quando ci sei, ti respiro, perché dopo di te, tipo di me, non ne ho. Più, oh no, ah oh 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 Grazie per la visione!